buongiorno sempre ancora da Matteo Rene con grande entusiasmo vi saluto grandi genitore oggi parliamo di un tema molto molto delicato che sono disturbi post trauma da stress eh qualcosa che dal punto di vista della psicologia diciamo dello sport è tratto con molta anche difficoltà di comprensione cercherò nelle mie forze di di tradurvelo in maniera anche pratica eh colpisce circa 10-15% della popolazione mondiale e quando si crea un trauma io cercherò di semplificare uno di noi che può essere il lutto fa parte di uno di queste traumi signi molto molto significativi può essere il fatto di magari di un evento atmosferico pensate terremoti pensate le grandi disastri quando io o li o li o sono proprio attore principale o li vedo si crea un trauma che può essere dal fatto che non è stato seguito post evento o che rimangono significativi nella nostra vita che bloccano la nostra esistenza e la nostra qualità di vita eh posso ricordare vorrei farlo raccontando ovviamente la mia storia che ho avuto proprio di un evento particolarmente forte e quali sono a mio avviso oggi con un po' più di saggezza di un uomo di quarantanove anni posso ancora applicare applico molte volte su di me io a all'età di sei di quindici anni ho avuto giocavo a calcio e ho avuto un grande malore eh durante la partita di calcio un 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 una brutta avventura una brutta malattia che mi ha colpito negli anni e eh mi ha dato un trauma perché sono caduto e sono rimasto a terra del campo e ho avuto arrivata l'ambulanza quel trauma molto forte per un anno mi ha portato a quasi bloccarmi sia nel calcio sia con l'attività sportiva e anche nell'attività scolastica tendenzialmente non riuscivo più a avere quella avevo quell'ansia sostanzialmente di uscire di casa una difficoltà notevole ecco perché oggi posso parlare sempre di difficoltà con un senso di averle vissute eh tutto quello che racconto è pura eh esperienza associata a studio e esperienza poi sul campo eh e questo mi permette di dire che questo trauma vissuto ringrazio perché ovviamente sono seguito anche da eh la psicologi e qua la ringrazio che oggi non è più con noi ma è quella che mi ha dato fatto capire come si poteva superare la situazione del genere l'ho superata molto molto bene alcuni elementi non si superano con il coach sportivo devono essere seguiti ovviamente da psicologi o anche da psichiatri perché ovviamente la situazione è non dobbiamo neanche pensare che sia un problema lo vorrei dire in questo podcast non pensate di sentirvi diversi vi posso dire che chiunque uomo ha un ehm ha la necessità di avere quelle quegli strumenti in mano per superare difficoltà molti non si accorgono tutta la vita che hanno sempre avuto qualche diciamo tra virgolette problemi se possiamo definirli tali che si potevano benissimo gestire anche con il supporto esterno e che non è sicuramente un punto debole della persona ma è solo volontà di vivere una qualità migliore della vita con questo vorrei solicitarlo con voi cosa succede che in questa difficoltà in questo anno in cui io avevo degli attacchi di tra virgolette di ansia e anche tutte quelle che sono le parti fisiche come sapete la mente poi gioca sulle condizioni fisiche io ho dovuto intraprendere un un aiuto e ho ben capito che essendo aiutati come ci si aiuta è più facile la strada no per arrivare e ho applicato quella che oggi è un po la mia eh qual è la terapia oggi abbiamo a che fare con il mindfulness no c'è queste tecniche di rilassamento che vi consiglio di andare a scoprire per tutti voi perché serve anche per prevenire e stare meglio durante la giornata che è una delle tecniche oggi più utilizzate da noi coach sportivi che è proprio quello della meditazione che è diventato qualche modo un elemento normale di chiunque qualunque uomo di di business o uomini sportivi oggi fa meditazione che che permette di creare le visualizzazioni che ne parleremo nei prossimi post perché i campioni oggi usano la meditazione più chi più chi meno la utilizza il grande ronaldo per dirti ne fa un suo uso di normale di quello che si chiamano le routine mattutine con i suoi cinque quindici minuti di meditazione che sono fondamentali per creare quello che oggi parlano l'equilibrio della persona interessantissimi ci sono poi ovviamente casi io ho utilizzato per che oggi è fondamentale per gestire i momenti difficili e quello del asd o cbt che è un'altra forma diciamo di c'è quello che se avete un qualunque problematica o difficoltà nell'affrontare qualunque cosa la cosa migliore non è cercare di essere più forti di di dire no di distruggere la mia le mie eventuali difficoltà paure come vedete ma è quello di accettare l'accettazione un grande un grande psichiatra francese ne parla molto bene di questa cosa di cui ho preso spunto è proprio l'accettazione del del vostro stato d'animo no accettarla farla passare non contrastarla ma cambiare la visualizzazione cambiare i pensieri che voi avete momento in cui trovate quella situazione di disagio che avete di qualunque ambito e creare delle esattamente delle frasi che vi ripetete proprio nel contrario cioè dire non mi oggi non mi sento bene non mi sento bene ma io ok ottimo matteo ho capito ma voglio fare questo continuare a parlare con voi sembra strano quello che vi sto dicendo ma vi posso dire che sono le cose migliori per creare al nel nostro cervello questa macchina fantastica creare che cosa una serie di modelli di autodifesa che ci permettono di pian piano di allontanare quei pensieri che arriveranno perché in automatico voi ne avete creati altri ecco questa la mente molto particolare ma molto più semplice di quello che si possa pensare perché quando io comincio ad avere dei pensieri negativi e e cerco di contrastarli ma non non cosa dicendo no non è vero no tu ce li hai sono tuoi compagniaggio pian piano arriveranno sempre fuori qualche volta ma io so benissimo che quando questa situazione creo delle miei modelli dei miei pensieri positivi che mi permettono di vivere insieme a quelli negativi non c'è più il contrasto questo è una delle delle mie con poi gli agganci che abbiamo parlato già in un altro podcast sono gli agganci positivi che io ho creato mentalmente quando devo affrontare una difficoltà voglio riprendere la concentrazione no e questo vale per tutti voi pensate una bellissima vacanza fatta col vostro fidanzato pensate a un momento di rilassamento più bello che avete vissuto ecco perché gli eventi dovete farne molti perché io scherzando però tra i miei viaggi ho avuto la fortuna di viaggiare molto di molte cose mi ricordo i tramonti mi ricordo i momenti da solo sugli scogli e riesco oggi se chiudo secondo le occhi in questo momento io sento ancora il sento il rumore del mare sento il calore sento gli spruzzi d'acqua che sono quelle immagini che io ho fissato su tanti argomenti me le sono addirittura le richiamo spesso che mi permettono di riprendere l'equilibrio necessario prima di un incontro prima di un podcast come questo no io mi rilasso cerco quell'evento che mi crea quell'equilibrio ognuno di voi ha un momento particolare che si è creato due tre quattro cinque sei immagini che dovete riprendere costantemente nel momento in cui avete bisogno di equilibrio ok che non vuol dire che voi avete dei problemi ecco ma quell'equilibrio necessario per affrontare un colloquio difficile con il vostro capo dovete prendere una decisione importante che vi crea magari un po di tensione diciamo sto termine avete bisogno usate molto degli agganci visivi ok io perché dico visivi perché io acquisisco le informazioni dal punto di vista visivo ok ognuno di voi può essere anche magari uditivo per cui ha bisogno di sentire la musica e a sentire più che vedere io in realtà sono ovviamente sono in questo caso non uditivo poi c'è quello che è più cinestetico per quello ha bisogno del tatto per quello ha bisogno magari dei riferimenti degli agganci di toccare qualcosa che riprenda per quello magari ha qualcosa che tocca che può essere qualcosa di simbolico che ha creato in lui una sicurezza e un ricordo molto positivo ecco utilizzate queste cose nei vostri momenti ma io non ho tempo non può fare io posso dire che l'equilibrio è quello che vi permette di fare delle scelte più ragionate ok più tranquille quello quando avete degli eventi molto importanti cercate di prendere il momento che è equilibrio non prendete veramente mai nessuna e nessuna decisione quando il vostro stato d'animo non è equilibrato io che sono fortemente impulsivo conoscendo la mia impulsività nelle le reazioni normalmente la decisione la prendo sempre in tempi molto brevi ma normalmente faccio passare almeno 24 ore successive a una decisione importante non quelle che sono azioni quotidiane della mia giornata e normalmente metto in mezzo normalmente un'attività fisica che mi permette di ritrovare l'equilibrio vado a fare una corsa vado a fare una passeggiata no nei luoghi in cui mi richiamano magari il mio equilibrio e questo è importante avere questi salvagenti dentro di voi e insegnate ai ragazzi trovare i loro momenti di equilibrio cercate quello che per loro è un momento un rifugio pensate ai ragazzi che hanno la loro capanna come facciamo noi come facevo io quando avevo 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 un'età di 8 10 anni in cui avevano questo luogo no una volta c'erano queste capanne perché io vi ricordo oggi forse non vi sono più i luoghi ma si devono ritrovare luoghi in cui si possono trovare nei momenti di equilibrio cercate un momento di equilibrio io vado a fare la mia passeggiata la mia corsa di qualche di un'oretta in modo tale da recuperare faccio una bella la classica doccia post sport che aiuta a riprendere quell'equilibrio e lì posso prendere una decisione importante se avete una discussione con il vostro capo e non è andata bene la cena con il vostro marito o il vostro figlio non fatelo non fatelo vi consiglio perché avrete una serie di reazioni impulsive che possono succedere rovinando veramente l'efficacia della vostra comunicazione quegli eventi quelle comunicazioni importanti prendetele quando vi sentite equilibrati ed equilibrio non c'è da spiegare la studia dentro lo sentite dentro se avete la voglia di ricordare come vi sentite durante un evento che amante dello sport sente l'emozione di una vittoria sente le emozioni della delusione di una parte di calcio o l'emozione prima durante dopo qualunque attività noi viviamo di emozioni se siamo troppo carichi o di rabbia o di rancori e o eccessivamente anche troppo passionali alcune decisioni forse non prendiamole proprio in quel momento perché non c'è un equilibrio e potremmo fare errori e questo è un po' il mio consiglio che do perché è stata un po' anche una nella mia vita un è stato proprio anche un po' una palestra perché ho commesso tanti errori durante l'impulsività di essere veloce nelle valutazioni no alcune volte mi esce ancora lo dico col cuore però lo lascio andare perché al conto volutamente lo lascio andare perché non perché tante volte lui è il più buon consigliere di qualunque cosa perché lui che il mio cervello inconscio sa già la risposta delle mie attività io vivo ognuno ha un corpo diverso vostro figlio l'ha diverso conoscetelo però cercate di creargli questi spazi capire che spazi ha e invogliatelo magari stare con il miglior amico a bere un caffè come faccio io è un momento in cui mi creve il culino perché posso trovare degli spunti ok questo è un po un posto un po più lungo ma perché necessitava di darvi anche qualche spunto personale e sono convinto che voi lo fate già ok mettete un po' lo che cos'è è metterlo a sistema no si dice cioè mettetelo in modo che sappiate come utilizzare quegli strumenti che tutti noi abbiamo già nella nostra cassaforte o nel nostro diciamo diciamo borsa degli attrezzi tiratelo fuori quando serve ok ricordatevelo quello cambia le vostre le vostre è il vostro futuro nelle vostre scelte in qualunque cosa voi fate io vi posso dire lo uso spesso con mio figlio devo tagliarmi la lingua ok l'ho imparato mi sono creato un sistema di gestione delle mie impulsività perché vedendo io sono un amante ovviamente sono un allenatore come tale io con mio figlio devo essere il più staccato possibile ma quando vedo certe cose magari sono fortissimo come coach e come padre faccio un po più fatica penso che potete capirmi allora in questo caso mi sono creato anch'io dei sistemi di equilibrio che prima di dare di dire qua piuttosto non dico nulla piuttosto non dico nulla ok non dico più nulla per giorni lascio anch'io passare quell'acqua che però dentro l'ho vissuta perché non posso dire come padre non vedo certe cose vorrei intervenire vorrei dire alla mia non dico più sono molto tranquillo però ci vuole tempo perché non è che è nato assoluto io ho sbagliato eh io se oggi faccio questi ehm questi podcast è perché arrivano studi di coach allenatore visti sul campo con tanti bambini e con tanti ragazzi però sono anche padre per quello ho tutti quei pregi e difetti e con l'impulsività e con l'emozione che vive un padre e un genitore quando è dietro a guardare una partita o quando è in campo eccolo tutte queste emozioni io vi capisco fortemente cari genitori però sappiamo che quando abbiamo capito che il il voler bene a suo figlio significa tagliarsi la lingua cioè non dire nulla molto probabilmente abbiamo fatto un grande passo verso il successo di nostro figlio come uomo il campione lo se lo vedrà se verrà o non verrà ma non è la priorità ma è la crescita grazie da Matteo Barberi al prossimo podcast